Il supercharger è un bene o un male? Entrambi, veramente, non sto scherzando, è un bene ma è anche un male. Sto parlando ovviamente del degrado delle batterie e dei danni che utilizzare troppi supercharger possono portare, soprattutto poi ora che è uscito anche il V3. Quali sono gli accorgimenti da usare quando siamo in viaggio e nell'utilizzo normale dell'auto elettrica? Vediamoli insieme. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. E post scrittum, i consigli valgono per tutte le auto elettriche, non solo per Tesla. Grande Tesla che hai creato supercharger. Viaggiare così non è mai stato così comodo. Ed è vero, il grande limite che hanno le altre case costruttrici di autovelli con gli elettrici è appunto la rete di ricarica. Alcuni si affidano a Ionity che è simile al supercharger di Tesla, almeno quanto a velocità di ricarica, ma purtroppo ce ne sono molto molto pochi. Tra parentesi Ionity arriva anche a 350 kW, quindi più del supercharger V3. Rimane però un grande problema in entrambe le soluzioni e qui è il punto forte. Quindi sia Ionity che supercharger, che è il degrado repentino della batteria se si usano a lungo andare. Infatti, se queste stazioni di ricarica vengono utilizzate, quindi quando diciamo stazioni di ricarica veloci, io intendo sempre le DC superiore a 50 kW, il degrado della batteria sarà più rapido e non ci si scappa. Purtroppo le batterie a litio che ci sono oggi sul mercato soffrono molto le ricariche rapide in DC e anche se sono controllate, raffrescate, se si surriscaldano, eccetera, rimane comunque il fatto che ad ogni ricarica rapida andiamo piano piano a rovinarle un pochino. Per far sì che non si rovinino troppo, Tesla addirittura ha, da remoto, depotenziato alcune batterie di alcune vetture per evitare un degrado troppo repentino. Risultato? Chi ha comprato una Tesla qualche anno fa, che fino ad ora andava a 140 kW di ricarica in DC, ora magari va a 70 o a 100. Diciamo che è un bel cambiamento, certo, perché tra 70 e 140 c'è una bella differenza di tempo di ricarica. Le lamentele non hanno tardato ad arrivare, ma purtroppo non ci si può fare nulla. Tesla dice che è una cosa che è fatta per il bene vostro. Tante di queste auto che hanno ricevuto questo downgrade di potenza, ora sono messe sul mercato, magari come auto usate. Diversi mesi fa feci un video proprio sulle auto elettriche usate, andate a darci un'occhiata. Quindi bisognerebbe avere una bacchetta magica per capire, un dispositivo per capire se le batterie di un'auto sono in un buono stato oppure no. Io so che un'azienda italiana sta appunto creando un sistema hardware e software per determinare se le batterie siano o meno in buono stato. Spero a breve di darvi qualche dettaglio in più. Ma quindi, alla fine, il vantaggio che ha Tesla sulle altre aziende carmaker, ossia la rete supercharger, è uno specchietto per le allodole? A primo acchitto verrebbe da pensare di sì, ma in realtà per arrivare ad avere un downgrade di potenza bisogna proprio trattare male le batterie. Ora cerchiamo di capire insieme come trattarle bene ed andare a utilizzare al meglio i supercharger. Allora, prima di tutto, la cosa fondamentale è non fare mai caricare la batteria sotto il 10% e non andare mai al 100%. Almeno, questo è quello che ci dicono da tanto tempo, se seguite i miei video l'avrò ripetuto un milione di volte. Ma la realtà è che anche se andate sotto il 10% e caricate fino al 100%, non succede niente. L'importante è quanto tempo la batteria rimane in questo stato. Esempio, dovete fare un viaggio lungo, vi hanno sempre detto di caricare al 100% la batteria, quando dovete viaggiare. Bene, però, se lasciate l'auto tutta la notte in carica al 100%, perché uno dice, vabbè, mi preparo, parto domani mattina, carico le valigie, intanto la metto al 100%, è un problema, è un problema. Se invece caricate la batteria al 100% e non è appena pronta, andate ad utilizzarla, quindi non lasciate tutta la notte l'auto al 100%, questo non è un problema, perché al 100% ci rimarrà veramente poco. Mentre invece, se rimane a lungo al 100%, vanno in ossidazione le batterie al litio e quindi cominciano a degradarsi molto più velocemente. Qui, vabbè, poi la storia del 100%, ragazzi, è sopravvalutata, nel senso che se dovete caricare così tanto per fare più chilometri, che in realtà è che anche se caricate al 100%, l'auto non potrà mai andare a fare una frenata rigenerativa, quindi, perché non può caricare più la batteria, perché non c'è spazio per ricaricare. Infatti Tesla dà dei puntini in parte alla rigenerazione per dirti, guarda, che io non posso ricaricare, quindi non faccio la frenata rigenerativa. Oltre ad essere pericoloso, perché nel momento in cui voi siete abituati ad usare tanto la velocità, cioè la ricarica, la rigenerazione, quando mollate il pedale dell'acceleratore, la macchina veleggia, non frena più e quindi, insomma, diventa un po' complesso da gestire. Ovviamente se siete abituati con una frenata rigenerativa standard, oppure A3 sulle altre auto normali. Quindi, in ogni caso, quindi, consumerà molto di più se è al 100%, perché non può rigenerare. Quindi, io consiglio sempre di partire per un lungo viaggio con il 95%. Quel 5% in meno basta per aumentare un pochino la frenata rigenerativa ed evitare che la batteria soffra perché è al 100%. Quindi, caricate sempre fino al 95% se dovete andare in viaggio. E state sull'80% se dovete stare vicino a casa vostra, insomma, perché comunque 80% di batteria potete fare anche dei viaggi lunghi, chiaramente. Quindi, in caso di emergenza ce l'avete, però almeno non siete proprio fuori per fare un viaggio lungo, normale, al 90-95%. Poi, mai andare vicini allo 0%. Anche questa è una leggenda, certo, non è consigliato, ma se ci arrivate e ricaricate subito non succede nulla. La batteria non si danneggia. È molto semplice perché le batterie sono sempre sovradimensionate. Ad esempio, la batteria di una Tesla Model 3 Standard Range Plus dovrebbe essere da 50 kWh, ma in realtà, dopo aver fatto diverse misurazioni, risulta di 54 kWh. Questi pochi kWh in più rendono l'uso della batteria un pochino più elastico. Io, ad esempio, la mia Performance, che è una batteria da 75 kWh, l'ho spinta fino allo 0% e ho fatto ancora diversi chilometri. Ne ho fatti 6 perché non la facevo rigenerare, ma avrei potuto farne almeno il doppio. E comunque, anche quando l'auto si ferma completamente, rimane comunque un tot di kWh residui nella batteria. Perché? Perché se la batteria Lidio si scaricasse completamente, veramente, non si riuscirebbe più a ricaricare. Dovreste portarla al service. Ma come ricaricare se i supercharger sono un po' troppo spinti e si rischia di rovinare la batteria? Ok, se siete in un viaggio e il supercharger è di strada e avete bisogno di ricaricare per arrivare a destinazione, ovviamente andate di supercharger. Ma non esagerate. Se vi basta il 20% per arrivare a casa, mettiamo che vi serve il 10% ricaricate fino al 20%, mettiamo che vi serve il 30% ricaricate fino al 40%. Quindi, non abusate del supercharger. Uomo avvisato, mezzo salvato, no? Si diceva così. Se potete, infatti, prediligete sempre le ricariche in AC, piuttosto che quelle in DC. Perché quelle in AC sono lente e non rischiano affatto di rovinare la batteria. Quindi se voi fate continuamente cariche, scariche, scariche, scariche in AC, non rischiate assolutamente nulla. Se poi siete fortunati, da casa avete una trifase ad 11 kilowatt, ricaricate a casa e in 5 ore avrete la batteria piena. Se non avete un box, ok, potrebbe essere un problema. Lo analizziamo in un video la settimana prossima. Iscrivetevi al canale, accedete la campanellina così vi arriva la notifica del nuovo video. Tra parentesi, sto preparando un video su tutti i vari problemi che ho riscontrato con la mia Tesla, i vari aggiornamenti, eccetera, perché ho fatto altri video con dei problemi che poi mi hanno risolto. Quindi è meglio che vi faccio sapere, insomma, com'è andata. Anche perché, ve lo chiedete, nel frattempo il mio PC è impazzito. Teoricamente, diciamo che i problemi di ricarica di cui abbiamo parlato oggi dovrebbero risolversi con le nuove batterie promesse da Elon Musk, che salirà nuovamente sul palco in California per il Battery Day il prossimo 22 settembre. Si spera. Che è l'evento che stiamo aspettando da tanto, ma che continua ad essere misteriosamente posticipato. Quindi, vabbè. Vedremo le batterie senza cobalto? Le batterie allo stato solito? Cosa ci aspetterà dalla collaborazione con Panasonic? Vedremo. Voi lasciate un like se questi retroscena di Tesla vi sono piaciuti, così facendo dimostrerete a YouTube la vostra preferenza. E se sono fortunato, consiglierà il video ad altre persone che potrebbero essere interessate. Ci vediamo nei commenti qui sotto a questo video. E se volete approfondire con altri utenti Tesla, vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram. Siamo ormai più di 2600. E formiamo la più grande community Tesla e di auto elettriche d'Italia. Noi ci vediamo domenica in live alle 21 con una nuova estrazione di questi piccoletti. Mi raccomando, potreste essere estratti anche voi. Quindi, commentate. In ogni caso, se volete acquistare qualche accessorio, shop.mattevalenza.com e noi ci vediamo presto. Piccola conclusione. Il Supercharger fa male. È bello, bello, bello averlo. Però, insomma, non usatelo troppo. Ciao!